Ciao a tutti, grazie per essere qui. Parliamo di privacy e IoT in questo dibattito dell'ultima giornata di Iros Maratea, un argomento anche dal mio punto di vista molto interessante, sono laureato in giurisprudenza ma sono anche giornalista e direttore della comunicazione di un centro studi, dunque insomma anche per me personalmente è un piacere essere qui. Ringrazio Luca Bolognini, avvocato e presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, ringrazio Massimo Donna che è avvocato, founder di Paradigma Law e Strategy, grazie. E Anton Luca Cuoco con il quale approfondiremo anche i profili legati alla comunicazione di questa rivoluzione digitale come impatta anche sulla privacy. Partirei da te Luca, sei d'accordo per un inquadramento generale di quella che è la rivoluzione in atto con un cenno ovviamente al GDPR, sappiamo è stato ricepito da poco ufficialmente anche da noi in Italia, quindi se ci tratteggi un po' il quadro come è cambiato le sfide dal punto di vista giuridico. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io vi posso dire qualcosa dalla mia prospettiva che è la prospettiva di un giurista, naturalmente di una persona che maneggia il diritto, come il collega qui, riferito a questo qualcosa al mondo dell'IoT, dell'IoTizzazione galoppante dell'internet e delle cose. Premetto che ho due cappelli perché uno naturalmente è quello della ricerca e dell'istituto, l'altro è quello di avvocato che segue questi aspetti dal punto di vista delle aziende, di chi usa e di chi produce sistemi di IoT. E allora posso condividere con voi qualche riflessione, quasi riflessione da bar però, che deriva dalla mia esperienza più che competenza. Che problemi pone l'IoT, l'internet delle cose, e che problemi porrà? In questo senso lo metterei anche in relazione alla nuova regolamentazione che ci siamo dati in Europa in materia di protezione dei dati. Una caterva di problemi potenziali. Però io naturalmente in pochi minuti cerco di evidenziare quelli che secondo me sono i più significativi. Innanzitutto, a mio modo di vedere, nella inevitabile fusione, rifusione di ciò che è materiale con ciò che è immateriale, che è tipico di scenari, di ambienti IoT, e mi spiego, nella inevitabile trasformazione in dato, quindi in elemento virtuale, il dato personale che cos'è? È un elemento virtuale del sé di un individuo. A noi interessa il dato personale come tutela strumentale per la protezione di altri diritti, come libertà e dignità degli individui. Bene, in uno scenario IoT, inevitabilmente, come minimo, ci saranno dei sensori. Vuol dire che questi sensori trasformeranno ciò che è l'individuo fisico, materiale, catturandolo, lo trasformeranno anche in dato, in materiale. Questo è un primo elemento di fatto, che rileva da un punto di vista giuridico. Il secondo dato di fatto, che si verifica nove volte su dieci in un ambiente aiotizzato, naturalmente, sarà l'inverso. Sarà la possibilità di avere effetti materiali, quindi di trasformazione in fisico e in materiale, quindi non tanto in termini di sensing, ma di azioni che si verificano, sulla base di elaborazioni di dati che invece avvengono in una dimensione immateriale. Questo per un avvocato, quindi guardato da un punto di vista giuridico, ma anche per un legislatore, per un regolatore, è un fatto nuovo. Se voi prendete gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE, non voglio farvi annoiare troppo, però il 7 è più sulla tutela della sfera privata. Private and family life tutela anche le comunicazioni, di fatto. Però è molto sulla tutela della sfera privata, lo possiamo riferire a un diritto fondamentale che ci tutela, soprattutto non solo, ma soprattutto nel fisico. L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE è sulla data protection, quindi più sull'aspetto virtuale. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è, per questa fusione in andata e in ritorno tra materiale e immateriale nell'IoT, probabilmente dobbiamo andare a ripensare questi due diritti fondamentali in origine separati rifondendoli in qualcosa di molto simile a un nuovo diritto, che ci tuteli sia dal punto di vista immateriale sia da quello materiale. Poi, vi aggiungo solo due ulteriori spunti di riflessione, perché sono tra l'altro all'ordine del giorno anche nelle elucubrazioni di noi che ci occupiamo di questi aspetti dal punto di vista legalese. Ci sono altri due elementi che centrano proprio con il GDPR, con la regolamentazione che ci siamo dati in Europa e che ne evidenziano, a mio modo di vedere, la insufficienza, inadeguatezza e obsolescenza già da adesso. Fin dalla partenza, quindi lo strumento normativo non adeguato, dici. Non adeguato. Il primo, in un ambiente IoT, fortemente IoTizzato e in futuro pervasivo, il soggetto passivo del trattamento dei dati, cioè ognuno di noi, sarà inevitabilmente sempre più non utente. Cioè noi passiamo da una dimensione in cui siamo utenti attivi, interattivi, in grado di interagire, di avere interfacce a una dimensione in cui i sensori da un lato e gli attori a IoT dall'altro non hanno faccia, non hanno occhi, non hanno bocca, non hanno interfaccia per poterci comunicare che cosa sta succedendo con i nostri dati. E che cosa sta succedendo a causa dell'elaborazione di nostri dati e non solo di dati nostri, fra l'altro. Quindi la non utenza, l'essere non utenti, significa essere inconsapevoli di quello che sta succedendo con i nostri dati, su di noi, in generale in un contesto di questo genere. Che significa che le informative non servono a niente, perché non c'è il modo di darle, che richiedere i consensi preventivi è qualcosa di irrealistico e inapplicabile. E se voi prendete il regolamento privacy europeo, il GDPR, scoprite che invece il legislatore nel 2016 ha disegnato un marchigegno che è ancora basato quasi tutto sulle informative da dare ex ante, sulla richiesta di consensi, quando in realtà, diciamocelo, la partita è persa. La verità è che è persa già oggi, ma a maggior ragione domani, più a IoTizzeremo, più sarà persa, in partenza, perché è irrealistico, perché è impensabile placcare le persone prima che vengano catturate. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto di inadeguatezza del GDPR è che una IoTizzazione spinta, chiaramente in una sorta di animismo digitale, renderà sempre anche più intelligenti gli oggetti, ma che siano intelligenti gli oggetti in sé, o che siano intelligenti perché si fondano su calcoli più o meno cloud-based o su altri modelli intermedi che stanno emergendo. Comunque l'intelligenza artificiale sarà sempre maggiore. Che cosa significa questo? Che i nostri dati, che vengono catturati in un contesto IoTizzato, o le elaborazioni di dati che avvengono e che causano effetti, io credo che andremo sempre di più dalla protezione dei dati personali verso scenari di protezione degli effetti personali. Tutto questo che succede, che succederà sempre più intelligentemente dietro le quinte, con noi inconsapevoli, genererà degli impatti. Ora, se voi prendete il GDPR, è tutto imperniato su un principio che in particolare i giuristi burocrati adorano e che esaltano, che è l'accountability, la responsabilizzazione. Finalmente siamo nell'era dell'accountability, alla nausea. Per cui c'è maggiore libertà, però maggiore responsabilizzazione per i soggetti che trattano dati. Se voi prendete la responsabilizzazione, come è scolpita nel GDPR, è una responsabilizzazione, un'accountability tutta disegnata per i soggetti attivi del trattamento, che siano persone fisiche o organizzazioni di persone fisiche. Mi spiego, un'azienda oggi è comunque un'organizzazione di persone fisiche che possono essere responsabilizzate, fosse anche un fondo di fondi, di fondi, di fondi, però un board of directors, un consiglio d'amministrazione, c'è e sono persone fisiche e io le responsabilizzo in ultima istanza con extrema razio, addirittura delle sanzioni penali. Non prende in considerazione l'accountability degli oggetti. Cioè, una miriade di oggetti che se la faranno e se la diranno, tra di loro senza neanche passare da elementi di controllo umano, per cui io vi sfido a svolgere quella che noi giuristi definiamo la probazio diabolica nella rincorsa delle transazioni fra oggetti per capire dove si è verificata la magagna e nella filiera chi poter responsabilizzare. Anche da questo punto di vista io vedo il GDPR come particolarmente affaticato già in partenza. Vi ho fornito così in introduzione solo tre spunti che vi fanno capire quanto occuparsi di questa materia dall'ottica dell'avvocato dei dati non sia tanto una questione di compliance, ma veramente un rompicapo in prospettiva anche etica, non solo legale e strettamente intesa. Grazie Luca davvero per questo tuo quadro che hai delineato. Io continuerei ovviamente con Massimo Donna. Ecco, i profili di complessità sono rilevanti come Luca ha tratteggiato. Luca è stato espresso un giudizio piuttosto duro verso il GDPR, strumento inadeguato l'hai definito. Non so se condividi e se ci racconti anche che cosa fate voi di paradigma, low strategy. Sì, no, assolutamente condivido quello che diceva Luca. Il problema qual è in soldoni? Il problema è che questi oggetti, questi device, parlano l'uno con l'altro provocando una sorta di effetto domino. Tra l'altro i dati trattati sono quelli personali, ma sono anche i metadati, cioè i dati su dati che di volta in volta vengono creati dalla comunicazione tra IoT. Quindi sicuramente c'è un problema di consenso, cioè di modalità di espressione del consenso. Un problema, io sono un po' meno pessimista forse su GDPR, perché in realtà uno strumento lo fornisce ed è la possibilità di concentrarsi sul design dei device. Quindi laddove è difficile esprimere un consenso perché siamo in un ambito di IoT o per altre ragioni, può sopperire il design. Infatti uno dei principi di GDPR è quello della privacy by design. Cioè dal momento in cui si designa un nuovo servizio, un nuovo protocollo di comunicazione tra oggetti, si può lavorare sul design in modo che alcuni principi fondamentali, ad esempio quello della minimizzazione dei dati, siano rispettati. Quindi quali dati vengono forniti al primo anello, al primo tassello della catena IoT. Questi dati potranno moltiplicarsi? In che modo? Quindi diciamo, lavorando sul design e lavorando quindi sul design di ogni anello della catena IoT, per me si possono raggiungere gli obiettivi non insignificanti. E sopperire in qualche modo a quelle carenze di cui Luca parlava e che condivido. In generale, diciamo, noi lavorando anche con le start-up, vediamo delle utilizzazioni degli IoT interessanti, sia sul versante industriale che sul versante consumer. Ovviamente sul versante industriale, industria 4.0, lag tech, il connected cow, cioè i sensori applicati comunque ad animali nell'agricoltura più evoluta. Quelli sono problemi, però come sappiamo il dato personale è un dato che attiene, che permette l'individuazione direttamente o indirettamente di una persona. Quindi non si sente? Un po' più vicino se si sente però magari. Ovviamente è il contrario, parlo come a Sanremo e si urlo. Quindi diciamo sono problemi meno relativi al GDPR, più relativi alla sicurezza delle informazioni che non al dato personale. Laddove invece il GDPR entra violentemente in campo, sono le situazioni in cui ci sono dei device di smart home. quindi da Alexa a altri devices che diciamo i grandi aziende tecnologiche hanno posto in commercio. Quindi ci sono stati casi già adesso, cioè non sono ipotesi futuribili, sono già casi che sono successi, che sono stati oggetti di controversia giudiziale in America, per cui dei device hanno ascoltato una conversazione. Stavo leggendo proprio oggi questa storia, questo articolo. Questo è abbastanza terrificante. Hanno quindi interpretato male una conversazione, l'hanno registrata, dopodiché l'hanno messa, l'hanno mandata via, per fortuna connessione diretta, a un terzo conoscente, che era nell'elenco dei contatti delle persone. Quindi diciamo, le ipotesi più estreme, che però già si stanno verificando, sono ipotesi in cui in casa si viene spiati, si viene spiati, non si ha il controllo della propria riservatezza, e quello è abbastanza fondamentale. Come si risolve questo problema? Si risolve con delle misure di sicurezza adeguate. Questa è anche, diciamo, non una novità, ma un principio che è stato rafforzato dall'entrata in vigola GDPR. Quindi, a seconda della rischiosità dei dati che vengono trattati, le misure di sicurezza devono essere proporzionalmente adeguate. Nell'IoT, ovviamente, stiamo parlando di misure che devono essere assolutamente significative, e quindi, quando consentiamo a uno di questi oggetti di entrare in casa nostra, dobbiamo essere sicuri che i protocolli di sicurezza siano assolutamente adeguati. A mio avviso poi nascerà nel futuro anche, diciamo, una nicchia o inizialmente una nicchia di servizi di sicurezza digitali come strato, come layer ulteriore rispetto a quelli che forniti dai fornitori dell'IoT. Grazie Massimo. Non so se sintetizzo bene dicendo che la privacy è sempre più importante ma poi è sempre più difficile da far rispettare la luce della rivoluzione tecnologica in corso. Abbiamo evidenziato, ovviamente, profili di carattere giuridico e quindi criticità anche numerose. C'è forse invece un altro lato che è interessante verificare, che è il lato della comunicazione. parlavamo prima con Anton Luca ovviamente il tuo sguardo da comunicatore, da persona che si occupa anche di marketing è uno sguardo diverso, forse più ottimista. Allora ti chiederei qual è la tua e poi magari raccogliamo, non so se c'è qualche intervento, qualche domanda. Secondo me è interessante interloquire e raccogliere informazioni. Buongiorno a tutti. Il mio punto di vista è quello di una persona che nella vita si occupa di comunicazione e marketing nel mondo dell'elettronica di consumo e in particolare l'azienda per cui lavoro offre servizi post vendita. Quindi io sono pagato per studiare il consumatore, comprendere i suoi comportamenti, preferenze. I temi che hanno posto prima di me sono solidi, sono dei caveat che io devo considerare, però provo ad appassionarmi più all'opportunità che questo mondo dell'internet delle cose offre. qualche dato per capire anche meglio che cosa sta succedendo e perché così tante volte ne dibattiamo. Nel 2017 è proseguita la crescita di questo mercato dell'internet delle cose e ha toccato quota 3.7 miliardi di euro con un incremento del 32% rispetto all'anno precedente, cioè il 2016. Sono dati del Politecnico di Milano. Questo grazie a una spinta forte della connettività dei cellulari. In Italia in particolare a trainare questo mondo dell'internet delle cose è stato lo smart metering. Nel 2017 2.4 milioni di contatori di gas sono stati installati presso utenze domestiche italiane. Contatori elettrici intelligenti, il mondo di cui stiamo parlando, cioè dispositivi che dialogano in maniera intelligente attraverso cui chi si occupa di marketing può interpretare meglio il mercato, le scelte del consumatore, come quotidianamente usa anche il suo tempo e quali preferenze lo appassionano di più e quindi dal mio punto di vista possono essere anticipate e meglio servite. È un mondo molto vasto. Cioè noi viviamo nel mezzo di una rivoluzione. In questa rivoluzione l'economia del dato è quella che sta contribuendo ad alimentare anche dal punto di vista di business nuova economia, nuovo mercato, anche nuovi posti di lavoro. Dal mio punto di vista quindi studiare il consumatore che nel tempo, mi è capitato in una tavola rotonda con colleghi del marketing di evocare questo paradigma, studiare nel tempo il consumatore significa, è significato comprendere che non è più consumatore classico ma è un consumautore, attore protagonista del mercato che tra l'altro oggi in maniera sempre più connessa, condivisa, tracciabile, esprime punti di vista e le aziende più intelligenti, smart direbbe qualcuno, devono essere orientate a comprendere queste scelte. È un autore di recensioni, è un autore di indicazioni che io posso cogliere più o meno bene perché il mio interesse è servirlo. Un'azienda che offre post vendita tipicamente deve accarezzare il cliente nel tempo. Come faccio a farlo meglio? Studiando i suoi comportamenti, le scelte e l'opportunità che nel mondo per esempio della domotica, gli elettrodomestici, il mondo in cui sono, sono delle opportunità sterminate. Siamo in una fase iniziale e facciamo anche fatica a comprendere bene la portata di questo. E lo sforzo, come dire, legislativo di stare dietro a questa rivoluzione è titanico. Probabilmente ha ragione Luca quando dice cioè si fallisce perché sto rincorrendo un mondo che va alla velocità della luce e chi deve immaginare il perimetro normativo per dire a me attenzione per identificare dei caveat a salvaguardia dell'utente è una corsa molto difficile. gli ambiti di applicazione sono sterminati prima agricoltura molto corretto ricordare l'impatto di avere un mondo interconnesso con dispositivi macchinari che dialogano tra di loro e contribuiscono anche a ottimizzare la filiera la filiera che viene sempre più collegata integrata il consumo autore determina anche scelte che in passato non accadevano strategiche delle aziende il monitoraggio in tempo reale cioè viviamo in un mondo a portata di click dove io ogni volta che clicco sto dando delle indicazioni e le aziende ovviamente sono appassionate a immagazzinare quelle informazioni siamo in mezzo a questa rivoluzione qualcuno la chiama 4.0 io che sono appassionato insomma di cinema e sono campano salernitano sono cresciuto con la religione di ricomincio da 3 mi è venuta la battuta l'altro giorno ricomincio da 4 ma poi diventerà da 5 da 6 il mio punto di vista è quello di sforzarci tutti a crescere dal punto di vista di consapevolezza per cui l'utente è bene che sappia cosa accade dall'altra parte però questo potenziale timore di oddio cosa accade ai miei dati farei una riflessione un po' più approfondita perché non possa questa diventare un aiuto fermiamo il mondo tanto non accadrà e quindi subiremo la rivoluzione in cui stiamo vivendo e siamo di nuovo in una fase proprio iniziale noi non sappiamo cosa accadrà nei prossimi anni grazie grazie davvero tra poco prendiamo le domande volevo forse coinvolgervi e voi un secondo telegraficamente perché abbiamo parlato dei problemi di privacy soprattutto mi sembra dal punto di vista del consumatore della persona però la sfida per le imprese che operano nel settore IoT qual è? perché poi credo sia interessante anche in un contesto del genere che è ovviamente focalizzato sul mondo dell'impresa sulle startup innovative capire quali sono le sfide che devono fronteggiare dal punto di vista della privacy Luca a te e poi continuiamo con Massimo Sì io mi collego anche a quello che è appena stato detto perché c'entra con questa domanda mi si erano accese delle lampadine Data protection by design è vero sarà un principio prezioso che è contenuto nel GDPR purtroppo nella versione finale del testo l'hanno messa come principio obbligatorio per i titolari del trattamento dei dati soggetti anche che trattano dati per conto di altri soggetti ma l'hanno lasciato come sola raccomandazione per i produttori tecnologici che significa che io potrei produrre tecnologia non data protection by design proof e tuttavia non avere nessun tipo di obbligo quindi non avere rischi di sanzione quale potrebbe essere il ragionamento e il ragionamento del legislatore europeo non lo impongo come obbligo ai produttori di tecnologie perché tanto ci penserà il mercato chi dovrà usare quelle tecnologie a cui invece si applica l'obbligo richiedere che ci sia questo tipo di requisito di requirement nella tecnologia però indubbiamente questo ha un po' indebolito il tutto io credo che la posizione delle compagnie delle aziende delle start up come delle grandi non sia necessariamente antitetica rispetto a quella dell'utente dell'interessato del consumatore cioè ci possano essere delle convergenze nel cercare nel ricercare delle soluzioni nuove che magari non sarà il legislatore che è sempre indietro a indicare ma sono soluzioni nuove che possono derivare proprio dalla presa ad atto che la partita è parzialmente persa se continuiamo a ragionare nel vecchio nel vecchio modo allora che cosa consiglierei a un'impresa di mettersi nei panni dell'interessato dell'utente del consumatore cercando di trovare al di là di quello che dice il GDPR o comunque la regolamentazione in giro per il mondo cercando di trovare delle soluzioni per ciò che accade a valle per gli impatti per gli effetti traduco se è vero che in un contesto fortemente aiotizzato non c'è niente da fare i dati vengono raccolti a prescindere dalla richiesta di manifestazioni di volontà beh allora prevediamo delle funzionalità che siano di cosiddetta 3D privacy che vadano più o meno banalmente a indirizzare delle problematiche proprio di tutela fisica di protezione fisica tutti noi usiamo ogni tanto quel patacchino quell'adesivo che sta sulla telecamera quella è una sulla webcam quella è un esempio primordiale anteliteram di quello che potrebbe essere la 3D privacy ma in futuro nasceranno immagino motori ricerca degli oggetti più che delle informazioni per capire anti-radar da taschino da da stanza tutte delle funzionalità degli elementi tecnici che oggi possono sembrare o inutili o fantascientifici ma invece potranno essere degli ancillari utilissimi per le nuove per i nuovi deployments le installazioni di IOT un'ultimissima cosa su questo prima vi dicevo dell'inutilità di informare Exante come invece il GDPR vorrebbe per esempio io mi aspetto un grande sforzo nell'interesse delle imprese ma anche alla fine soprattutto dei consumatori e degli interessati degli utenti nel ribaltare la logica delle informative andare verso un approccio più da industria alimentare se volete da etichette sulle merendine per cui diamo per scontato che nell'IOT ci sarà raccolta massiva e impercettibile di dati quello che conterà sarà indicare a valle quando verrà proposto il contenuto anzi l'effetto l'etichetta l'etichetta degli ingredienti perché sto ricevendo questo perché sta succedendo questo l'etichetta in cui ti dico con cosa è fatto quell'effetto con cosa sono fatti quante calorie hanno metaforicamente quindi clicca qui oppure tocca qui perché sto ricevendo questo perché abbiamo elaborato abbiamo fatto determinate elaborazioni di dati che abbiamo preso da qui da qui da qui da qui da qui non sempre sarà possibile usare questo approccio però intanto sarà più efficace anche per l'impresa rispetto alle autorizzazioni ex-ante e alle informative ex-ante grazie continuiamo telegraficamente su questi punti così poi raccogliamo un paio di domande spunti dalla platea sì il mio consiglio alle start up che fanno IoT o che vogliono fare IoT è guadagnarsi la fiducia dei propri clienti dei propri utenti soprattutto ovviamente quando si parla di soluzioni consumer quindi da un lato la fiducia è la garanzia che i dati trattati siano solo quelli necessari per far funzionare l'applicazione IoT e poi quello della sicurezza soprattutto cioè che le misure di sicurezza digitali siano idonee quindi non risparmiamo sulle misure di sicurezza un esempio cioè l'intersezione tra IoT e biometria può essere fondamentale ad esempio quelli che vengono chiamati gli smart locks le serrature intelligenti a distanza siamo qui a Maratea abbiamo l'idraulico che deve ripararci il rubinetto da qui possiamo controllarne l'accesso oppure vogliamo fare entrare a casa solamente il nostro figlio che potrà entrare con l'iride però ovviamente se non abbiamo garanzie sulla minimizzazione dei dati ovvero quei dati biometrici che sono preziosissimi come circoleranno quali saranno le dinamiche appunto di trasferimento l'utente non si fiderà infatti questo è il problema per cui i smart locks in America ancora non sfondano tanto Luca su questo aspetto e poi sollevato tu effettivamente nel tuo primo punto la conclusione di Luca mi appassiona perché resto convinto che la leva è quella dell'informazione barra consapevolezza dell'utente che non deve subire un'eventuale azione di un'impresa così a mo' di sorpresa ma acquisisce un'azione un messaggio una proposta commerciale e può magari risalire al perché sono destinatario di questo così ben mirato messaggio di marketing quindi quella della consapevolezza dell'informazione la trovo cruciale che supera anche per certi versi lo sforzo che comprendo ma resta difficile da realizzare in maniera compiuta ed efficace lato normativo un altro telegramma di dato perché sono abituato a mettere un po' di ganci per capire perché questa cosa è così importante un dato di Accenture è quello per cui la stima entro il 2020 di apparati Internet of Things dovrebbe essere di circa 25 miliardi quindi continua ad essere un elemento deflagrante che cambia tutto c'era un'altra cosa che mi incuriosiva anche per interloquire con voi la gran parte delle realtà che vedete anche delle aziende vi sembra appassionato a questo appassionato a questo tema o lo sta subendo soffrendo Massimo noi assistiamo varie aziende che fanno IoT che fanno IoT in maniera complessa che ad esempio dei sensori nel campo medico per cui i dati medici sulla salute i dati particolari vengono poi uploadati comunicati nel cloud quindi ci sono problematiche molto molto serie ma sicuramente c'è entusiasmo c'è entusiasmo tra le start up tra le aziende più grandi c'è consapevolezza che è un settore su cui non si può rimanere indietro e stiamo vedendo degli investimenti importanti c'è sensibilità quindi siamo ottimisti Luca anch'io vedo quelli che si fasciano la testa in termini di conformità e invece quelli che secondo un diverso approccio da Aikido cercano di fare leva anzi sull'opportunità di questi vincoli non so se ci sono domande ecco vi passo il microfono domande considerazioni non troppo lunghe così riusciamo a prenderne più di una buongiorno io mi sono occupato in passato di privacy molto più dal punto di vista del web che dell'IoT abbiamo fatto diverse ricerche su quella che era la cookie law quindi quel bannerino da mettere e come anche ha verificato l'Unione Europea è stato un fallimento e secondo me il problema più grande era la mancanza di un framework che automaticamente ti dicesse se un sito era a norma o no a me sembra molto che con la GDPR oltre ad aver introdotto diverse cose interessanti la parte sui controlli ci sia ma sia impossibile da scalare cioè per il garante della privacy chi deve fare i controlli potrà andare su Google potrà andare sui prodotti Amazon potrà andare su altri ma sui prodotti che la gente acquista la gente acquista un cellulare Xiaomi della Cina perché molte volte non gliene importa magari così tanto della privacy ma vuole il prezzo più basso e siccome come si diceva prima i prodotti IoT aumenteranno a dismisura e molti anche proveranno dalla Cina mi sembra molto che la normativa ci sia ma il framework per implementare i controlli ci sia anche ma non sia scalabile per cui appunto volevo capire voi invece come la vedevate questo punto di vista prendiamo altre domande o considerazioni eccoci puoi anche presentarti grazie buongiorno sono Carmelo sono qui da presentanza del Contamination Lab Unibus che è sostanzialmente un innovatore che parla di imprese e innovazione sociale nell'università della Basilicata la mia domanda però riguarda più il contesto didattico o meglio dato questo processo di digitalizzazione sempre più accelerato con tutte le problematiche relative come quella della privacy e così via voi cosa fareste in un contesto didattico per educare i cittadini del domani cioè secondo voi è una mossa vincente questa grazie grazie un'altra domanda sì in realtà è più una considerazione che una domanda io riporto un dato che è quello che dice che il 95% degli utenti utenti quindi come noi quando vede quel bannerino che compare l'informativa classica ci sta su circa due secondi questo è il 95% degli utenti questo per dire cosa che la GDPR risolve un problema che in realtà non esiste perché cioè la considerazione è che gli utenti all'utente frega poco della privacy frega che il servizio che io ricevo facebook linkedin quel che sia sia rapido veloce e io devo passare due secondi cioè il bannerino è più un disturbo che quindi quello che io credo manca è quello che diceva non mi ricordo tanto duca che è la consapevolezza cioè quindi il problema non è fare una legge che la GDPR che ti risolve perché quel bannerino continuerà ad essere evitato secondo me la GDPR funziona molto più per le imprese perché le imprese subiscono una furicita di informazioni inconsapevole e devono essere responsabili però tra imprese e imprese non tra imprese cioè all'utente frega poco della privacy fino a questo momento grazie abbiamo tre risposte da dare certo assolutamente ecco il microfono telegramma è questo io mi sono iscritto in una palestra qui dentro ci sono tutti i miei dati mi è arrivata una notifica sull'app e ho visto che c'è un riepilogo che mi identifica non soltanto per sesso per età ma per massa magra massa muscolare metabolismo basale ho scoperto una serie di informazioni allora quando vedi questa cosa lato utente mi è sembrata e mi sembra una delle occasioni in cui la leva consapevolezza informazione può essere usata e spiegata per cui dire l'utente non è tanto appassionato a cosa accade al suo dato non lo so dipende quanto capisce io come azienda come lo posso usare e che cosa può accadere con il mio profilo archiviato più o meno bene con il rischio di abusarne dell'utilizzo però le altre domande che hanno un impatto un po' più Massimo proseguirei con la tua visione anche rispetto alle considerazioni che sono arrivate da chi ci sta ascoltando per quanto riguarda la consapevolezza penso che siamo ancora all'alba della consapevolezza nel senso che quando la quantità la qualità delle informazioni degli atti personali che ci riguardano che verrà diffusa sarà sempre maggiore quando le persone cominceranno a vedere che una compagnia assicurativa non li assicura perché il loro medical device gli ha comunicato che comunque hanno avuto esatto o i loro dati di navigazione mostrano che sono preoccupati o comunque diciamo a quel momento la gente comincerà a capire che i dati sono preziosi è qualcosa che succederà molto prima di quanto non pensiamo sta succedendo strano che non se ne siano accorti le persone finora perché già lo sono diciamo ma presto c'era un impatto fisico più che virtuale a quel punto c'era una grande consapevolezza e quindi anche queste discussioni sulla rilevanza o meno della praia si per me finiranno una considerazione conclusiva con Luca Bolognini anche rispetto a queste considerazioni vi permetto di segnalare follia artificiale riflessioni per la resistenza dell'intelligenza umana che ha scritto proprio Luca per Rubettino insomma un volume da leggere insomma te che hai aperto questo panel anche un po' il compito di tirare le conclusioni di questa discussione rispetto anche alle sollecitazioni che sono arrivate al pubblico Sì grazie le conclusioni se non altro qualche considerazione su quello che è stato detto allora per quanto riguarda i controlli condivido la strada è lunghissima forse addirittura è impercorribile in diversi casi e ha di possibili a Nemo Tenetur io sto notando una cosa interessante che sta nascendo per esempio con riferimento a determinate certificazioni che arriveranno quindi stiamo parlando del futuro 2019-2020 che sono certificazioni proprio lato GDPR articolo 42 del GDPR alcune di queste certificazioni saranno focalizzate sul mondo IoT e utilizzeranno l'IoT per il monitoraggio e i controlli è interessante come approccio cioè invece di farti visitare dagli auditor periodicamente che ti fanno un controllo a campione ti monitoro determinati indicatori di come sta funzionando il tuo sistema IoT per esempio con riferimento alla tutela dei dati e della privacy dei lavoratori in un'industria 4.0 e lo faccio io organismo di certificazione direttamente facendo leva sugli stessi sensori per esempio questo potrebbe essere uno scenario sulla cookie law condivido io chiaramente bypasso sempre sono il primo a non leggere le informative io credo che gli avvocati siano gli ultimi a leggerle se non per i propri clienti ma la cookie law tra l'altro non deriva neanche dal GDPR viene da un'altra disciplina che è le privacy che è in corso di revisione ma è proprio uno di quegli esempi che facevo sull'inutilità delle informative ex ante e sul fatto che sia molto più efficace in prospettiva vedere proprio nel banner della pubblicità ma non di sola pubblicità stiamo parlando il click here per capire con quali ingredienti è stata fatta quella personalizzazione quella profilazione che ha portato al targeting e l'ultima domanda l'ultima osservazione invece toccava che tema se mi riaccendete ecco sì no questa è una cosa molto importante io credo che sia veramente rilevante la consapevolezza chiaramente si compone anche di di competenza e di educazione a monte vedo un parallelo in realtà faccio il ponte anche con il disinteresse di cui si parlava nell'altra osservazione con e lo notavo anche qualche settimana fa chiacchierando con colleghi vedo un parallelo con da un lato quello che è accaduto in ambito ambientale nel passato cioè ragionando con mio padre che mi raccontava di alcune cose che si dicevano 30-40 anni fa sull'inquinamento dei vari petrolchimici e di altri tipi c'era un po' la percezione allora che dopo tutto la natura fosse così grande così estesa in grado di assorbire e dopo tutto di risolvere la questione dell'inquinamento ambientale ci siamo resi conto oggi che così non è e ci ritroviamo le spiagge piene di plastica anche soltanto perché è più percepibile e allora ci rendiamo conto del fatto che non sia poi così vero che la natura assorbe tutto rischiamo di avere un approccio di non curanza molto simile con riferimento al trattamento dei nostri dati poi giustamente come dice Massimo quando le cose succedono e succederanno sempre di più negli effetti io ero in hotel a Dubai qualche settimana fa mia figlia aveva l'augmentin nel frigo bar pago per Solerzi alle 8 faccio il check out poi torniamo in stanza cerco di aprire il frigo bar non si apriva più perché l'algoritmo aveva capito che avevo già pagato e quindi non si apriva ho chiamato giù e in tempo reale mi ha detto perfetto adesso si apre però lì c'era stato un effetto non era un farmaco salvavita in quel momento urgente ma c'era stato un effetto e poi probabilmente un approccio molto simile a quello dell'igiene igiene digitale più che educazione digitale quello che è il nostro rapporto con i microbi con qualcosa che non percepiamo io non so se qui ci sia che tipo di bacillo però tutti quanti siamo abituati a lavarci le mani abbiamo una forma di educazione di questo genere ecco io credo che sia molto importante su foglia artificiale io in realtà butto la palla più in alto perché parlo di principi anche di stato di diritto umano riferiti all'aiotizzazione all'intelligenza artificiale però insomma quello che sta nel micro sta anche poi nel macro una pillola conclusiva da parte tua Massimo sì no voglio rispondere al ragazzo che parlava della scalabilità dei controlli ovviamente il concetto di scalabilità è un concetto digitale se un giorno i controlli saranno fatti digitalmente ci sarà un tool saranno scalabili al momento sono fatti con ispezioni fisiche soprattutto però è interessante notare che il garante ha pubblicato le sue linee guida sui controlli e ha chiarito era già un sospetto ma ha confermato che verranno effettuati attraverso la guardia di finanza quindi comunque ha anche limitato il numero di controlli a 80 per il primo semestre che non sono tantissimi però in prospettiva la guardia di finanza che ha una certa capacità nel senso di eseguire un numero elevato di controlli relativi a fraude fiscali e a regolarità fiscali verrà utilizzata anche per verificare la compliance privacy quindi da un lato sì la capacità diciamo la robustezza per effettuare i controlli c'è ci sarà e dall'altra parte è possibile è probabile che un imprenditore che si vede arrivare alla porta alla finanza per diciamo controlli tipo fiscale subirà anche controlli di tipo data protection quindi diciamo i controlli ci sono e potenzialmente sono robusti grazie allora grazie a tutti siamo arrivati alla conclusione di questo dibattito buon proseguimento con la parte finale di Iros Maratea grazie Luca Bolognini Massimo Donna grazie Anton Luca Cuoco grazie a tutti grazie a tutti